In questo video vi illustro il concetto saliente del corso in webinar Fare gruppo, teorie e tante pratiche. Affrontiamo proprio questa dinamica molto curiosa che quando mettiamo insieme delle persone, che siano dei bimbi, dei ragazzi, o dei giovani o degli adulti, c'è una complessità, viene chiamato un campo di forze. Per cui illustro un po' la teoria concettuale che sta dietro i gruppi. In un gruppo possiamo dire che ci sono appunto tante forze che partono dall'individuo e dal contesto, che si mescolano e che producono questa doppia dimensione, un po' attrattiva, un po' repulsiva. Per cui un gruppo è il gruppo classe, un gruppo è il consiglio di classe e per cui affronteremo questo concetto alla luce poi di metodi e di strumenti per fronteggiarlo e per facilitarne un po' il proseguo e lo sviluppo.